Amici di Oro Musica, siamo in compagnia di Etanore Aro, fresco della sua esperienza a XFATOR. Come è andata? L'esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima, mi sono divertito tantissimo ed è stata soprattutto costruttiva, sia personalmente che artisticamente. Come è stato lavorare con personaggi del libro di Ambra e poi degli altri giudici, con Dargen, Fedez e Moran? Lavorare con loro è stato bellissimo e mi ha formato tantissimo, soprattutto in ambito di rapporti sia artistici che personali. Nel momento in cui sei tornato a scuola c'è stata una festa, abbiamo visto le immagini anche sulla televisione locale, su Telebari. L'emozione è stata tornare in mezzo ai tuoi compagni di classe e di scuola, agli amici, con cui condividi la vita di tutti i giorni? Tornare con i miei amici, tra le persone che conosco tutti i giorni, è stato bellissimo ed è stato molto emozionante rivedere anche loro dopo tutto questo tempo. E poi arrivare a Bari, come ti ha accolto il pubblico barese? Il pubblico barese mi ha accolto, mi continua ad accogliere nelle strade e ringrazio tantissimo, mi ha accolto in una maniera stupenda. Ti è capitato di essere fermato per strada da qualcuno e ti ha riconosciuto, come quello di Svator oppure non so? Sì, mi è capitato e continua a capitarmi e sono davvero grato e contentissimo per tutto questo. Progetti futuri o possiamo aspettarci da te alla fine? Potete aspettarvi qualsiasi cosa e mi raccomando rimanete sintonizzati perché uscirà a breve, non a breve, però sarà possibile vedere i miei nuovi progetti futuri. Grazie mille, a lupo per tutto. Grazie mille. Ciao.